Il prossimo ospite straniero è Raúl Caray, perché è spagnolo dell'Università di Barcellona. Grazie a lei la parola. La presentazione è concentrata sui dati multistotopici applicati alle varie sorgenti. Prima di fare una piccola presentazione al nostro gruppo di ricerca, il nostro gruppo di ricerca dall'Università di Barcellona ha utilizzato gli isotopi per cercare di individuare le sorgenti di nitrato fino al 2000. Poi abbiamo utilizzato gli strumenti multistotopici per poter individuare le reazioni di denitrificazione. Poi abbiamo utilizzato gli isotopi per valutare l'efficienza dell'attenuazione indotta dei nitrati. Abbiamo testato vari componenti. Nel 2008 abbiamo eseguito un testo sul campo per recuperare la qualità dell'acqua con 200 mg per litro di nitrati. In questo processo per risolvere il problema abbiamo utilizzato l'etanologo per promuovere la denitrificazione. Nel 2009 con una società pubblica Traxatec abbiamo realizzato un progetto di dimostrazione per tracciare l'inquinamento da nitrati in 10 diversi corpi acqui. L'anno successivo abbiamo utilizzato uno strumento multistotopici. In questa presentazione vi farò vedere quest'ultimo progetto. Abbiamo pubblicato circa 17 lavori in riviste scientifici concentrate sui dati isotopici negli studi sull'inquinamento da nitrati. Il progetto di cui vi parlerò è un progetto che caratterizza 10 diversi corpi acqui nelle zone vulnerabili. Abbiamo raccolto informazioni relativamente alle geologie di tutte le aree, all'idrogeologia, alla definizione degli acquifere, del flusso, delle acque sotterranee e dell'evoluzione. Abbiamo anche caratterizzato gli utilizzi del suolo, l'agricoltura, le pressioni di agricoltura e di allevamento e la geochimica con l'approccio multisotopici. Con l'integrazione di tutte queste informazioni siamo stati in grado di individuare quali sono le principali sorgenti di inquinamento da nitrati e possiamo anche individuare i processi di attenuazione dei nitrati in quelle aree dove c'è l'attenuazione dei nitrati. Dobbiamo capire se la reazione è terotrofica o autotrofica. Abbiamo anche studiato l'evoluzione temporale dell'inguinamento dei nitrati confrontando i risultati del 2014 rispetto a quelli ottenuti nel 2009. Per cui vi spiegherò due esempi, due casi di studio, uno nel sud e l'altro nel nord della Spagna. Il primo esempio è l'area di Vega de Granada. Vega de Granada è ubicata nel sud della Spagna. La concentrazione nitrata andava da meno dei 20 mg per litro a 100 mg per litro nel nord. Il flusso di acque sotterranee ha questa direzione verso il nord e le sorgenti principali sono correlate ai fertilizzanti inorgatici, l'allevamento intensivo e c'erano parecchie aree urbane Granada che è nel sud dell'area. Abbiamo quindi visto che con gli isotopi è possibile individuare diverse sorgenti e vari sorgenti hanno diverse composizioni isotopiche. Possiamo anche individuare alcune mix fra le sorgenti e possiamo valutare le percentuali, stimare le percentuali. È una stima, uno qui magari più, la pressione maggiore da una parte l'etame, dall'altra il fertilizzante. Se è in funzione le denetificazioni, vediamo questi colori. I vari colori indicano diverse sorgenti, quindi denetificazione, nitrati organici. Questa è l'area invece che si sovrappone, la sorgente non è stata identificata con precisione. Quando questi processi di identificazione si mescolano è molto difficile utilizzare semplicemente attraverso un isotopo la sorgente, ma questo problema può essere eliminato mescolando vari approcci a più isotici, per esempio il boro e il solfato. Quindi, tornando al caso del Vega de Granata, a Vega de Granata abbiamo individuato un gruppo di campioni che sono principalmente correlati ai nitrati organici, ma non possiamo fare una distinzione fra acqua, reflu e l'etame. È un campione che forse è un mix fra fertilizzanti organico o un'attenuazione dei fertilizzanti d'ammonio. È un punto in cui sicuramente c'è la denetificazione. Soltanto con l'ossigeno e i nitrati possiamo, con questi isotopi, migliorare le nostre conoscenze. Per cui, innanzitutto, abbiamo selezionato quattro campioni per esaminare gli isotopi di Borno, il campione 26, 25, 15 e 20, perché abbiamo riscontrato che con il boro è possibile individuare, si può fare una distinzione fra l'etame e acqua e reflu. Per cui, tracciando la composizione del boro rispetto all'investimento della concentrazione, abbiamo campi diversi a seconda della sorgente. Nel caso di Vega de Granata abbiamo osservato che ci sono tre campioni che hanno composizione isotopica del boro simile all'etame ed un punto che veramente era invece collegato alle acque reflu e all'etame l'altro. Ci sono anche degli campioni che contengono i fertilizzanti, ma perché nelle acque sotterranee c'è la diluizione e quindi questo non è vero e proprio fertilizzante. Se combiniamo gli isotopi dei nitrati e boro, possiamo chiaramente correlare la sorgente all'acqua e reflu e qui vediamo, per esempio, gli nitrati vengono dall'etame. In modo simile, il boro con solfato, si possono ottenere informazioni circa le sorgenti. Questi due punti che sono al confine tra i due riquadri, possiamo vedere che il solfato ha una composizione mix fra sintetizzanti e sintetici e l'etame e possiamo escludere le acque reflu e come sorgente dei nitrati. D'altra parte, qui invece abbiamo quattro campioni che sono vicini, fertilizzante e acqua reflu. Il campione 2948 è correlato ai nitrati, credo che stia morendo la batteria, stia decedendo 2948 è correlato ai fertilizzanti sintetici e in parte alcune acque reflu, ma non possiamo dare conferma. Il campione 2526 è nitrati da sorgenti organiche che sono correlati ai liquami. per cui con questo strumento a più isotipi possiamo distinguere qual è la sorgente dei nitrati per l'area di vegano e granata. Il secondo caso è l'Empordà, in Catalogna, nel nord della Spagna, un'area costiera. La concentrazione dei nitrati andava da meno 10 mg per litro fino a più di 100 mg per litro e la sorgente principale dell'area sono correlate ai fertilizzanti, soprattutto fertilizzanti organici, intenso allevamento del bestiame e anche in parte acqua reflu. E allo stesso modo in cui abbiamo visto per Vega e Granata, qui possiamo osservare un gruppo di campioni in cui la sorgente dei nitrati è correlata ai fertilizzanti sintetici, altri campioni che presentano un collegamento ai nitrati organici, ma non si può fare distinzione fra l'etame e le quami. Cuni però sono sicuramente influenzati dalla denetrificazione, quindi nitrati rimossi dall'acqua sotterranea, in cui per questi campioni è difficile individuare la sorgente. Potrebbero essere fertilizzanti sintetici perché vengono da quest'area, ma questi tre punti sono nel livello di sovrapposizione, quindi con nitrati, ancora una volta non è possibile individuare la sorgente per questo gruppo di campioni, abbiamo applicato il boro nella stessa maniera e qui abbiamo osservato che ci sono due campioni in cui il nitrato è correlato al nitrati organico, quindi all'interno dei fertilizzanti, ma sempre per via della diluzione, quindi i nitrati per questi due campioni sono collegati agli quami e altri due esempi che sono collegati all'etame. Ma voglio sottolineare, potete vedere questo riquadro rosa, questo è un campione di acqua e reflu, e questo campione di acqua e reflu è all'interno dell'etame perché siamo su un'area costiera, quindi l'influenza marina e il sale marino possono mascherare la composizione isotopica del boro. Abbiamo visto questo tipo di risultato in molte aree costiere perché l'acqua del mare ha un'elevata concentrazione di boro e la composizione è 40 per mille, quindi in questo caso, in quest'area, non possiamo utilizzare il boro per fare una discussione fra l'iquami e l'etame, quindi l'isolfato forse ci può dare informazioni maggiori rispetto al boro. Nel caso del PURDA abbiamo osservato questi due campioni dove la sorgente era fertilizzante sintetico, quindi solfato correlato a fertilizzanti sintetici, la denitrificazione dove poteva provenire dal sintetico e il mix fra fertilizzanti e liquami, ma per questi due campioni possiamo eliminare l'etame e altri due gruppi per cui il solfato è una sorgente mista, quindi fertilizzanti, l'etame e l'equami. Un altro punto qui che ha un elevato, maggiore valore di zolfo e ossigeno perché è tipico dei processi di riduzione del solfato. In questo campione, concentrato in tratti è molto basso, quindi influenzato dall'identificazione, qualche riduzione del solfato, probabilmente verificata in questo punto, ma con il solfato possiamo avere informazioni anche relativamente alle reazioni che sono in corso all'EMPURDA. Abbiamo analizzato gli isotopi di solfato da un gruppo di campioni e abbiamo visto che hanno seguito questa tendenza della denitrificazione, la denitrificazione quindi è guidata dalla reazione autotrofica, la composizione isotopica del solfato, quindi passando all'area del solfato derivato dall'ossidazione del solfato. Tuttavia i campioni da EMPURDA sono vicino alle aree del suolo, quindi possiamo eliminare la denitrificazione autotrofica come responsabile e all'EMPURDA la denitrificazione dovuta all'ossidazione della materia organica, quindi è eterotrofica. E questa è un'informazione molto importante perché se vogliamo fare qualsiasi tipo di trattamento per eliminare o ridurre sul campo l'inquinamento da nitrati, possiamo migliorare l'attenuazione naturale e per migliorare l'attenuazione naturale dobbiamo sapere quale è il tipo di reazione che si sta verificando nel caso in quest'area, in questo caso dell'EMPURDA. Per chiudere quindi, per riassumere questo progetto, abbiamo studiato dieci aree, abbiamo raccolto informazioni relativo alle sorgenti, agli isotopi, in tutte le aree abbiamo informazioni utilizzando gli isotopi e siamo stati in grado di individuare le sorgenti e i processi. A volte non abbiamo raggiunto dei risultati conclusivi, per esempio nelle aree costiere tipo a Valencia o sull'estero di Minorca, in quest'area col borro, non siamo stati in grado di distinguere fra l'etame e l'equame, a volte col carbonio 15 non abbiamo ottenuto risultati, ma negli acquiferi carbonati o con sedimenti di carbonato è difficile applicare il carbonio 13 perché i valori vengono mascherati. Quindi ho riassunto qui le informazioni che possiamo ottenere dagli isotopi. Innanzitutto che tipo di informazione con i tanti possiamo individuare le sorgenti, le reazioni, possiamo quantificare le reazioni se abbiamo una buona rete di monitoraggio, possiamo studiare l'evoluzione temporale, con la tempistica d'evoluzione, ma possiamo anche la possibilità, ma abbiamo anche delle restrizioni per quello che riguarda le isotopi, ma queste limitazioni possono essere minimizzate quando integriamo risultati degli isotopi con la chimica, la geologia, l'idrogeologia e le pressioni all'aria. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, si è trattato di un contributo veramente molto interessante, grazie a Raul e a Pascal. Sono stati contributi molto importanti perché ci abbiano mostrato un nuovo modo per affrontare il problema anche. Quindi sto guardando i miei colleghi.